Narrare è la più antica arte del mondo. Ogni volta che si racconta una storia si torna in quella caverna attorno al fuoco, quando i primi uomini, per farsi coraggio e compagnia, hanno iniziato ad emettere parole e suoni ed a comporre i primi racconti. Abbiamo organizzato una serie di appuntamenti che hanno come denominatore comune il raccontare. Lo faremo con racconti più o meno brevi, con conferenze, con lezioni vere e proprie. La serie di racconti che andremo a fare è stata pensata e sviluppata su un modello circolare. Non si butta via niente. Una storia dopo l'altra, la fine di una e l'inizio dell'altra, una storia dentro una storia, dentro un'altra ancora. Raccontando ci si può salvare la vita. Non pensate che sia una esagerazione. Sherazad, né le mille e una notte, si salva la vita da morte sicura, raccontando per mille notti consecutive una storia infinita al sultano. Che, via via, incuriosito dal racconto, non solo si dimentica di far giustiziare Sherazad, ma addirittura se ne innamora. Raccontando ci si può costruire la vita. Non pensate che sia un'esagerazione. Chi vi sta parlando l'ha fatto e chiunque lo può fare. Se c'è un argomento che più di tutti ha bisogno di essere raccontato, quell'argomento è la bellezza, la madre di tutti gli argomenti. Tutto è nato dalla bellezza. Tutto dipende dalla bellezza. Difenderla è un dovere. Lo possiamo fare raccontando. Ogni storia è un atto di ottimismo e di speranza, un gesto che si oppone alle forze della distruzione. Ogni storia ci allontana dal buio e ci conduce verso la luce. Ogni storia è come una bussola. Il segreto del narrare sta tutto nel cercare l'essenziale, togliere il superfluo e portare in primo piano solo l'indispensabile, come faceva Michelangelo con i suoi marmi. Narrare è un po' come meditare. Pulisce, toglie di dosso l'inutile, quello che non sei, che non ti appartiene, che ti rallenta. Raccontare ai giorni nostri così come ai tempi della caverna è come rammendare con un magico filo capace di cucire un mondo strappato, capace di creare intimità, comunità, capace di collegare ogni cosa in un gioco infinito. Per raccontare occorre un narratore. Il compito di un narratore è far innamorare, dopo essersi innamorato. Seguiteci, potrebbe valerne la pena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.